Ciao ragazzi, adesso vi faccio vedere che cosa è ricevuto da parte dell'azienda Beauty Revenge. Scopriamo al suo interno, et voilà! Qui c'è subito una frase che mi ha colpito, che ha scritto alzati, guardi a te lo specchio, la bellezza è tutta lì nei tuoi occhi. Davvero una bellissima frase. Allora, scopriamo il contenuto di questa box. Allora, partiamo subito con una maschera viso anti-edge. Quindi già partiamo col botto. È di un contenuto di 100 ml. E quindi, cioè, è favolosa perché si può portare comunque anche in viaggio. Poi abbiamo qui una crema viso rigenerante con bava di rumaca ed acqua di fior d'aliso. Vi faccio vedere al suo interno. Eccola qua. Questa volta, invece, la boccettina è in vetro, con questo tappo nero, davvero bello. Ed è di 50 ml. Poi abbiamo questo siero viso rigenerante con bava di lumaca ed acido ialuronico. Vediamo il suo interno. Eccolo qua. Anche questo è una boccettina di vetro, davvero bella. Con il contagocce, che è così si applica sul viso molto meglio. Questo è di 30 ml, quindi perfetto. E poi, vediamo cos'altro c'è sotto questa paiuzza. Ecco. Poi qui troviamo due buste. Uno, patch labbra, attivi, idratante e anti-pollution. Quindi è un complesso di alghe anti-pollution, acido ialuronico e diverso peso molecolare. Quindi fantastico. Questa è una sorta di maschera che si applica sulle labbra per lasciarle in pose 10 minuti. E quindi poi diventeranno le labbra più idratate. Quindi una sorta di maschera. E anche questa. Quindi ne abbiamo due pacchetti. Davvero fantastico. Grazie mille a Beauty Revenge per questi prodotti. Grazie mille a tutti. 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 Grazie a tutti